Sul porto di Gioia Tauro lo Stato ha fatto i suoi investimenti, il gateway ferroviario, il bacino di carenaggio, tutti gli impegni che ci eravamo presi sono partiti, in questo anno come in quasi tutti i porti italiani. Quindi adesso aspettiamo che il privato faccia la sua parte con i suoi investimenti e ci aspettiamo un aumento dei carichi di lavoro e auspicabilmente un riassorbimento di questi lavoratori dai nuovi terminalisti e quanto ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio durante il question time alla Camera dei Deputati rispondendo a un'interrogazione dell'onorevole Rosanna Scopelliti di Alternativa Popolare su quali iniziative il governo intenda adottare per rendere operativa l'agenzia di somministrazione del lavoro portuale rendendo effettiva la sua funzione a supporto dei lavoratori licenziati. L'agenzia, ha spiegato Del Rio, è stata voluta da questo governo esattamente per difendere i posti di lavoro per favorire una flessibilità all'interno delle autorità portuali, tant'è vero che proprio nel correttivo Porti si prevede l'adozione del piano organico del porto dei lavoratori e delle imprese che il presidente dell'autorità portuale può appunto adottare e serve proprio per migliorare la formazione professionale. Nei primi giorni di questo mese i 377 lavoratori hanno ricevuto le indennità di mancato avviamento da parte dell'Inps e quindi possiamo procedere adesso anche al programma di formazione e ricollocazione. Tutta la parte burocratica che era in capo all'Inps è stata conclusa. I lavoratori sono pienamente coperti da un punto di vista previdenziale e dello stipendio e adesso stanno maturando gli investimenti che dovrebbero determinare un aumento dei carichi di lavoro a Gioia Tauro. Investimenti garantiti dal terminalista. La deputata di Appisco Pelliti da parte sua aveva auspicato una maggiore sinergia tra governo e regione. Proprio in un recente incontro con i sindacati, l'azienda terminalista MCT nel consegnare i dati trimestrali ha però confermato un drastico calo dei volumi.